Aveva fatto scalpore un paio d'anni fa, ma la definitiva consacrazione di Path Out, il videogioco che racconta il periplo di un rifugiato siriano e ha ottenuto la conferma al Gamescom in Germania, arriva ora. Il personaggio in una foresta e cerca di fuggire verso la libertà, il protagonista è lui, Abdullah Karam, che racconta, ho affrontato soldati, mine, mi hanno sparato, questo videogioco è la mia vita. Lo studio che ha sostenuto il giovane siriano è Causa Creation, team tedesco che raccoglie vari attivisti e che dal 2014 ha deciso di usare i videogiochi per alzare l'asticella e parlare agli utenti. All'inizio sembra uno sparatutto come tanti, ma quando poi incontri l'ISIS e l'atmosfera si fa sempre più inquietante, ti chiedi davvero dove diavolo sei capitato. Il successo di questo gioco, scaricabile online su internet, è il punto d'arrivo di un percorso iniziato anni fa, con l'obiettivo di sensibilizzare quante più persone possibile.